ciao a tutti ragazzi e ragazze vi volevo solo dire una cosa allora per la mia uscita di halloween si sono uscita fuori ma non mi ha aperto nessuno e quindi non ho potuto fare il video mi dispiace ma quest'anno è così e poi sono andata fuori un po troppo tardi quindi mi sembra abbastanza normale e vabbè sarà per l'anno prossimo mi dispiace ancora ragazzi scusatemi grazie